Continua la gara di solidarietà per i profughi in arrivo dall'Ucraina, per poter dare accoglienza a donne, anziani e bambini, tra le prime a mobilitarsi la Caritas con la diocesi di Catania, che ha ora attivato il progetto accoglienza denominato Emergenza Ucraina. Nel corso degli ultimi giorni, con l'intensificarsi del conflitto, si legge in un messaggio di donna Piero Galvano, direttore della Caritas di Catania, si sono moltiplicate le offerte dei cittadini per ospidare profughi provenienti dall'Ucraina. In attesa di ulteriori disposizioni, Caritas Catania, in accordo con il nostro arcivescovo Monsignor Luigi Renna, ha attivato presso i propri uffici un apposito servizio per la raccolta delle disponibilità all'accoglienza. Sono tanti cittadini disposti ad aprire la loro casa o a mettere a disposizione seconde case per dare un tetto sulla testa a chi ha perso tutto. Per quanti volessero rispondere a quest'appello della Caritas di Catania, si può mandare una mail all'indirizzo segreteria-caritascatania.it, specificando nome, cognome, residenza, contatto telefonico, tipologia di ospitalità in famiglia o in altro immobile e periodo di ospitalità. Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare allo 095 530 126, dalle 8.30 alle ore 14, oppure contattare il responsabile Caritas, Salvo Pappalardo, al numero 349 51 70 227. Tutte le disponibilità raccolte verranno in una successiva fase specifica ancora. Don Piero Galvano condivise con gli enti preposti ufficialmente al coordinamento dei flussi di profughi e all'organizzazione dell'accoglienza. Intanto, domenica 27 marzo, come disposto dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, in tutte le parrocche e rettorie della Chiesa di Catania, durante tutte le messe, si farà una colletta pro-ucraina.